Questa mattina noi schitani come comunità tutti ci siamo svegliati in questa tragedia. Una tragedia che tra l'altro ripercorre una vecchia tragedia che abbiamo subito 13 anni fa nel 2009. Tipo la stessa quasi di entità, anzi forse questa è per forza e per quantità di fango che è sceso forse anche superiore. A quanto pare sembra che la scorsa volta nel 2009 l'acqua abbia trovato un canale per uscire, per fuori uscire. Ora sembra che quasi il fango e l'acqua si siano combattati e siano poi insieme scesi a valle. Tutta la comunità adesso è un po' in apprezzione perché ci sono delle zone più colpite, che sono nella parte alta. Ci sono case che sono state quasi sommerse dal fango e quindi si sta cercando di vedere se ci sono persone all'interno. La cosa drammatica è che ha preso tutto, quindi per quanto possa sembrare magari difficile da credere, cioè ha portato via macchine, ha portato via lampioni, ha portato via qualsiasi cosa. Ci sono delle macchine che sono messe in alto, di lato e uno passando non si spiega come sia stato possibile questa cosa. Quindi siamo costernati, io spero che lo Stato e chi per esso ci dia una mano perché veramente abbiamo raggiunto il cuore. Che hai provato stamattina quando hai visto? Stamattina è stato drammatico, è come aver sentito la sofferenza di 13 anni fa.